Alezza! Raccontami la storia di Carlo Magno. Mi spiace, al momento non riesco a recuperare informazioni sul film. Riprova più tardi. Vabbè. Alezza, raccontami la storia di Orlando che muore a Roncesvalle. Mi spiace, non la conosco, ma ho una skill che potrebbe piacerti. Si chiama Favola della Buonanotte. Vuoi provarla? No! No!